... Finisce 3-7 a 0 la partita di questa sera, diciamo primo set avete fatto fatica, avete fatto fatica a entrare in partita Poi il secondo set ve la siete giocata, avete perso proprio l'ultimo punto, però non è bastata In primo set abbiamo deciso di provare una squadra diversa, abbiamo fatto entrare il palleggiatore per dare spazio anche a lui La squadra non è uscita ad ingranare, nel secondo invece siamo andati meglio e nel terzo siamo scesi Questa è un po' la fotocopia, lo specchio di tutte le altre nostre partite Sì, ti chiedo come mai oggi, ma come dici te in generale c'è questo problema in cui c'è differenza di prestazione da un set rispetto all'altro così ampiamente Non lo so, l'abbiamo avuto fin dall'inizio del campionato, purtroppo la squadra intera non riesce ad ingranare bene Anche se singolarmente il potenziale c'è se prendiamo i giocatori singolarmente, però di squadra dobbiamo ancora ingranare Sì, finora è una stagione abbastanza difficile, ti chiedo secondo te cosa c'è da migliorare, se più in ricezione, qualcosa più in ricezione oppure più in attacco Ma diciamo che varia dalle partite, oggi abbiamo preso tanti nastri, facciamo fatica un po' a chiudere il pallone Mentre magari un'altra partita il problema è un po' più la ricezione, oggi la ricezione è andata meglio rispetto alle altre partite Quindi diciamo un po' migliorare un po' tutto, poi sali e scendi sempre Va bene, grazie mille, in bocca al lupo, ciao